E' un po' il racconto dell'epica battaglia che c'è tra quelli che dicono la nostra vita è tecnologica, siamo tutti più belli per via della tecnologia, i telefonini salveranno il mondo, così via, il lato di internet e quelli che dicono guardate che siamo sommersi dalla tecnologia, ci stiamo magari perdendo la vita vera che sono quelli del lato Cabernet. Per cui è nata da questa suggestione l'idea di raccontare un po' chi tra i due ha ragione, se c'è qualcuno che ha ragione e soprattutto in che razza di mondo viviamo, se siamo qui a dover dire siamo in un mondo troppo tecnologico oppure no. Personalmente internet è una cosa bellissima, come il campo giochi per i bimbi devo dire, perché da quando è nato facevo tutt'altro, sono nato come matematico, poi ho proseguito studiando i microprocessori e quando è nato il web soprattutto, io sono stato colpito come la falena in segue la luce, per cui per me è una cosa bellissima, dopodiché adesso è cambiata molto da quando è nata, ormai un bel po' di tempo fa, è cambiata molto, è diventata matura se vogliamo, da bambina che era, è diventata una cosa molto più seria e soprattutto la cosa bella per me è che molte delle previsioni su quanto internet e web si sarebbero uniti con la società, per cui sarebbero diventate una cosa sola e si sono poi realizzate, cioè è bellissimo vedere il potenziale che si ha quando si vede che parte della società viene legata alla rete e anche viceversa la rete poi restituisce un potenziale immesso. Ci sono stati studi che hanno visto che staccarsi dalla rete internet fa bene e anzi il consiglio che do io, nonostante io viva su internet e ci sia nato e ci sguazzi giorno dopo giorno, è di staccarsi mezz'ora o un'ora al giorno, lo so che è difficile ma come la droga o per il fumatore insomma dire staccati dalle sigarette, però si è visto che fa bene, cioè aiuta a concentrarsi, a riacquistare un po' delle capacità diciamo di profondità che si perdono, si è visto che si perdono con l'uso della rete normale perché la rete ci rende magari veloci, però ci fa un po' perdere in pensiero profondo diciamo, per cui questo è il consiglio che posso dare sia visto che aiuta. A che cosa non rinuncerei mai? Beh, devo dire non rinuncerei mai, ci sono tante cose ma la prima cosa che mi viene in mente è l'email, classico, perché ci lavoro ma anche cose come per esempio Wikipedia che ormai sono una fonte di ispirazione e di ricchezza incredibili. Devo dire la cosa principale in tutta l'innovazione, sia che uno la faccia come start-up o anche dentro o strutturato diciamo in aziende più grandi, l'entusiasmo e la voglia di cambiare, cioè deve esserci un fuoco sacro che anima, io una volta tempo fa ho detto che ogni start-up deve essere un po' come Peter Pan, cioè deve avere un pensiero felice per poi poter volare, per cui al di là di tutta la tecnologia che possiamo metterci dentro se non c'è il cuore poi non si va da nessuna parte.